cari ascoltatori vi saluto calorosamente nel prezzo sul nome del signore gesù cristo siamo stati felici di ricevere posta da così tanti che sono stati toccati dai nostri ultimi sermoni in un modo molto speciale forse è la semplicità della presentazione delle verità bibliche che ha aiutato migliaia di persone e le ha portate ad una giusta comprensione della parola di dio le persone di diverse fedi sono afferrate dal signore in modo tale che vogliono a tutti i costi credere come dicono le scritture siamo lieti di poter contribuire attraverso queste trasmissioni radiofoniche ad aiutare in questo modo le persone di lingua tedesca in tutta l'europa e noto che non ho alcun obbligo di rappresentare una particolare visione di una comunità religiosa sono nella privilegiata posizione di poter predicare la parola di dio liberamente e apertamente come ci è stata lasciata dal cristianesimo primitivo sono stato aiutato in questo dal fatto che ho sperimentato personalmente il battesimo dello spirito e col fuoco e che qui nell'assemblea sperimentiamo sempre di nuovo l'opera dello spirito santo attraverso i vari doni dello spirito quindi non è una teoria ma una pratica che sta dietro a questa proclamazione oggi vogliamo parlare ancora della potenza dello spirito santo ma vogliamo concentrarci su qualcos'altro abbiamo descritto dagli atti degli apostoli l'esperienza e la testimonianza che tutti i credenti in ogni tempo hanno avuto la stessa esperienza di ricevere lo spirito santo paolo continua or colui che con voi ci rende fermi in cristo e che ci ha segnati col proprio sigillo e ci ha data la caparra dello spirito nei nostri cuori seconda epistola corinzi capitolo 1 versetti 21 e 22 nell'antico testamento il re e i sacerdoti anche gli utensili nel tempio erano unti prima di essere messi al servizio di dio l'unzione rappresenta la consacrazione per lo scopo divino qui si parla dell'unzione dello spirito santo con cui dio ci ha unti e ci ha stabiliti saldamente in cristo si parla anche dello spirito santo come un sigillo e un pegno posto nei nostri cuori se approfondiamo questo concetto dell'unzione e del suggellamento ci rendiamo conto che c'è di più che la semplice esperienza del battesimo nello spirito paolo lo esprime molto chiaramente nella sua lettera agli efesini affermando in lui voi pure dopo aver udito la parola della verità l'evangelo della vostra salvazione in lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello spirito santo che era stato promesso il quale pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelle che dio si è acquistati all'ode della sua gloria e fisini capitolo 1 versetti 13 14 poco prima l'apostolo dice che il mistero della sua volontà ci è stato fatto conoscere secondo il suo consiglio poi parla dei veri credenti che devono essere qualcosa all'ode della gloria di dio tutti coloro che hanno posto la loro speranza non in se stessi o in una chiesa ma in cristo che hanno ascoltato la parola della verità il vangelo della salvezza e sono venuti a credere sono sigillati con lo spirito santo della promessa perché credono alle promesse di dio date nella parola dallo spirito santo il suggellamento può avvenire solo in coloro che appartengono al gruppo a cui pietro scrive avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amore fraterno non finto amatevi l'altro di cuore intensamente poiché siete state rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di dio vivente e permanente dobbiamo sottometterci in completa obbedienza alla parola di dio e avere un amore fraterno non finto in modo da poterci amare intimamente e con tutto il cuore questo è possibile solo dove il semi incorruttibile della parola di dio è stato vivificato nei nostri cuori dallo spirito giovanni sottolinea anche la necessità dell'unzione dello spirito santo quando scrive figlioletti è l'ultima ora e come avete udito che l'anticristo deve venire fin da ora sono sorti molti anticristi onde conosciamo che l'ultima ora sono usciti di fra noi ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri quanto a voi avete l'unzione dal santo e conoscete ogni cosa tutti gli apostoli hanno sottolineato l'importanza dell'unzione dello spirito santo perché lo spirito santo ci conduce sempre nella parola di dio e ci rivela le verità divine la domanda ora è se abbiamo avuto con dio queste esperienze di cui le scritture ci parlano quando lo spirito santo è sparso su tutti non significa che tutti i credenti si sottomettono alla disciplina e alla guida dello spirito santo perché molti verranno in quel giorno ed elencheranno tutte le grandi cose che hanno fatto nel nome del signore senza essere riconosciuti da dio ogni esperienza che facciamo deve portarci più vicini a dio e collegarci più intimamente a lui e alla sua parola i nostri pensieri tutta la nostra esistenza deve essere portata completamente nell'ubbidienza a dio e ad essere completamente sottomessi alla parola di dio paolo scrive nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta non rattristate lo spirito santo di dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione i credenti devono essere liberati e redenti non solo dal peccato dalle schiavitù e dalla maledizione ma anche da se stessi come spiega paolo io muoio ogni giorno affinché cristo viva attraverso di noi ogni giorno e ogni ora dobbiamo stare attenti alle parole della nostra bocca perché sta scritto dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato dobbiamo mettere via la menzogna e dire la verità al nostro prossimo non dobbiamo più adirarci e peccare e il sole non deve più tramontare sulla nostra rabbia inoltre non dobbiamo più dare spazio al calunniatore ci deve essere un rinomento completo da parte dello spirito santo cari ascoltatori cari fratelli e sorelle noi crediamo nel riempimento dello spirito santo in tutti i doni e i frutti dello spirito santo ma crediamo anche che dobbiamo ricevere la parola della verità ed essere sigillati con lo spirito santo fino al giorno della nostra redenzione il signore stesso ha fatto in modo che tutto questo sia possibile perché altrimenti non sarebbe nella bibbia e non sarebbe stato promesso a noi che tutti noi ci rendiamo conto di quanto sia importante fare queste esperienze bibliche e non solo discuterle o esprimere le nostre opinioni su di esse ma entrare in possesso di ciò che cristo ha acquistato per i cristiani la parola cristo significa lunto la parola cristiani significa gli unti fondamentalmente l'unzione con lo spirito santo appartiene ad ogni cristiano se si volesse essere molto precisi nessuno avrebbe il diritto di chiamarsi cristiano prima potrebbe certamente dire che è diventato un credente che si è convertito ed è diventato un figlio di dio ma la designazione cristiano include l'unzione con la potenza dello spirito santo in questo tempo ci sono molti cristiani senza cristo e senza l'unzione dello spirito santo ma grazie a dio per il resto dei veri credenti che cercano il volto di dio con serietà a volte anche con la preghiera e il digiuno finché non ottengono l'esperienza promessa nelle scritture possa il signore riuscire in questi sermoni a portare un risveglio e una riflessione tra i suoi in modo che tutti coloro che sono destinati ad essere portati su siano come le vergini avvedute che hanno l'olio dello spirito santo non solo nelle loro lampade ma anche nei loro vasi il grido risuona ecco lo sposo uscite gli incontro infine la parola a coloro che vogliono essere rapiti se lo spirito di colui che ha risuscitato gesù dai morti abita in voi colui che ha risuscitato cristo gesù dai morti vivificherà anche vostri corpi mortali preghiamo padre celeste ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola concedici la grazia di essere un tempio di dio un tempio dello spirito santo equipaggiaci per servirti e donaci la grazia di condividere la tua opera in questo tempo benedici ora tutti coloro che hanno ascoltato la tua parola lo chiedo nel nome di gesù amen grazia di condividere la tua voce grazia di condividere la tua grazia di condividere la condividere la pubertà di condividere la sua Grazie a tutti.